L'amministrazione si appresta a vivere uno dei momenti più importanti e appaganti per Cartoceto dal punto di vista della visibilità. La nazione, l'Italia è tutta con gli occhi puntati su questa importante DOP delle marche, ma anche italiana, l'olio di Cartoceto. Assolutamente sì, è un momento di grande visibilità, forse il momento più importante per il borgo storico di Cartoceto, ma in generale per tutto il territorio di Cartoceto e direi anche per l'areale, cioè per quei territori che sono ricompresi all'interno della DOP Cartoceto, mi riferisco a Fano, a Colli al Metauro e a Monbaroccio. Da qui capiamo anche quella che è la rilevanza provinciale di questa importante eccellenza per il territorio, eccellenza in campo agroalimentare che ovviamente ha forti e importanti ripercussioni positive anche per il nostro tessuto economico in campo agroalimentare. Una DOP che dovrà ulteriormente potenziarsi, siamo già al lavoro assieme al Consorzio della DOP per ulteriormente allargare questo areale fino alla vallata del Foglia e fino alla vallata del Cesano, quindi questo significa che in termini di territorio sarà una DOP di territorio provinciale e di rilevanza non soltanto regionale, perché è l'unica DOP olearia della Regione Marche, ma sicuramente un'eccellenza a valenza nazionale ed internazionale. Per chi viene a Cartoceto questo fine settimana, che cosa trova? Innanzitutto ricordiamo l'appuntamento sia di domenica 5 che di domenica 12, l'inaugurazione dell'evento Cartoceto dopo il Festival prevista per domenica 5 alle ore 15 in piazza Garibaldi, un evento anche quello di quest'anno che vede tante iniziative artistico-culturali che sono finalizzate a riscoprire antichi luoghi segreti della Cartoceto, anche sotterranea, perché ci saranno a cura del gruppo comunale di protezione civile anche la visita delle grotte sotterranee di Cartoceto, come dimenticare però quelle che sono probabilmente le due chicche principali di questa edizione 2017 del Festival, quella di domenica 5 novembre, l'esibizione del maestro Fabio Concato nel settecentesco Teatro del Trionfo e l'esibizione invece sempre a teatro di domenica 12 di Greta Panettieri, insegnita del Jazz's Award 2016, che appunto nel mondo del jazz ripercorrerà quello che è il repertorio più famoso e noto dell'artista Mina, conosciuta ovviamente a tutti. Diamo quindi appuntamento a Cartoceto il 5 e il 12 di novembre.